Finalmente è arrivato il giorno in cui posso andarmene, rendendomi conto che non dovrò più vedere il volto di questa donna affogata nelle sue lamentele aspettative, riluttante ad accettare che il mondo è già lontano da quello a cui è abituata. La suocera, che è sempre stata severa e spietata, persolificava i vecchi principi, dove ogni donna è principalmente una casalinga e una domestica nella sua casa. Il lavorare al computer le sembrava poco più che divertente. La fissai, fissandomi con questa strana soddisfazione. Come se la mia partenza fosse stata la sua vittoria. Ma solo io conoscevo l'amara verità che era nascosta dietro questa decisione. Durante i nostri cinque anni di matrimonio con Gaston, abbiamo vissuto molto. Sembrava che fossimo i legami più sorti. Abbiamo costruito la casa, l'abbiamo riempita di consort e tutto è andato in silenzio e in pace fino quando non è avvenuta la sfortuna. Mio suocero, sempre pieno di vita, improvvisamente si indebolì e ci volle una cura costante. Il mio marito, come unico figlio, sessunse la responsabilità. Prima che mi guardassi indietro, ci eravamo già trasferiti a casa dei suoi genitori. Ricordo i miei sentimenti in questa mossa. Resistenza sorda e delusione. La vita che abbiamo iniziato a costruire con Gaston è stata costretta a dissolversi in un sciusso incinito di aspettative e richieste altrui. Avrei capito tutto. Ma i miei sogni e obiettivi improvvisamente cominciarono a sembrare irrealizzabili e superflui. Mie suocera sembrava dimenticare all'istante che stavo lavorando. Che avevo i miei obblighi ogni giorno ha instillato che il mio dovere ora è dedicarmi alla sua casa. Lavorare da casa? Era infastidita dal fatto stesso che ero solo seduto al computer e non riusciva a capire che era il mio lavoro a mantenere la stabilità finanziaria di Gaston e di me. Ha condannato senza fine che solo il cibo preparato con le sue stesse mani meritava di essere lodato. Che una vita piena di faccende senza fine era l'unico obiettivo degno per una donna. Ogni mattina mi sedevo al computer. Cercando di non prestare attenzione alle sue battute. Mi ci sono voluti alcuni mesi per tornare al mio vecchio stipendio dopo aver temporaneamente ridotto il mio carico di lavoro per prendersi cura di mio suocero. Ma poi, per la prima volta da molto tempo, ho sentito gioia e fiducia in me stesso. I soldi che guadagnavo coprivano la maggior parte delle nostre spese. Poiché il reddito di Gaston non era sufficiente. Ma ogni volta che mi stancavo e entravo silenziosamente in cucina per preparare rapidamente la cena, mia suocera chiedeva ad alta voce. Per chi ti siedi tutto il giorno solo facendo clic con i mouse? Chi cucinerà? Chi pulirà la casa? Così sono durati i nostri giorni. Lei, sicura di avere ragione. E io, cercando di non perdermi. Pensavo che la vita sarebbe stata più facile quando Gaston e io ci siamo trasferiti dai suoi genitori. Mi sembrava che in questo modo avremmo potuto tagliare i costi. Aiutare un suocero sull'orlo di un doloroso declino e sorsi anche mettere da parte dei soldi. Ma le cose non sono andate come speravo. Invece di sentirmi sollevato, ho scoperto che il nostro budget stava negando in un pantano. Lasciando il mio tasfolio vuoto e ogni centesimo che guadagnavo scomperiva senza lasciare traccia. La curiosità mi ha fatto dare un'occhiata più da vicino alle nostre spese. Ho iniziato a controllare le dichiarazioni, ad analizzare gli acquisti e le spese. E si è rivelata una scoperta dolorosa. Il denaro scorreva non solo per le necessità quotidiane. Mia suocera spendeva summe per vari eccessi. Costuse attività con i suoi amici, spese per palline e piccole cose di cui non aveva veramente bisogno. Ike Aston. Mio marito, la cui carriera richiedeva moderazione e responsabilità, si è trovato incapace di abbandonare l'abitudine di trattare colleghi e subordinati usando le nostre carte di credito per pranzi improvvisi e viaggi al bar. Ho capito che le cene amichevoli aiutano a mantenere i legami commerciali. Ma ogni volta che le bollette per queste riunioni sono diventate sempre più impressionanti. Ho provato a parlargli, a spiegare che tali spese non portano nulla di buono, ma non ha ascoltato. Ha solo risposto che i colleghi apprezzeranno la sua generosità. In questo contesto, mia suocera ha continuato a girare tra le sue amiche. Ha pagato lezioni e viaggi. E quando una volta ho balbettato sul risparmio, sono caduto con disprezzo. Non stai facendo niente, ha detto con un rimprovero. Sei seduto al computer e pensi che sia un lavoro serio? Non mi restava che tacere pazientemente, sentendomi rimproverato per aver dimenticato i miei doveri in casa. Mi è stato legato il diritto di essere ascoltato in questa casa. Anche se sono stati i miei guadagni a coprire la maggior parte delle nostre spese. Dopo aver rattolto il mio spirito, ho deciso di parlare con loro della situazione generale. Ho spiegato che il nostro budget non è stato in grado di sopportare tali carichi per molto tempo e che in futuro dovrai ridurre le spese. Ma le mie parole incontrarono un silenzio gelido e un fastidio. Gaston notò solo sreddamente che non voleva sembrare avaro di fronte ai suoi colleghi perché poteva rovinare la sua reputazione. Anche mia suocera, come si è scoperto, non ha ritenuto necessario tagliare i suoi hobby importanti. Le loro scuse caddero su di me come accuse. Sei sempre a casa comunque. Perché non sai solo le faccende domestiche. Ho sentito di nuovo da loro. Si è scoperto chi pensavano che lavorare da casa fosse quasi uno scherzo. E solo pochi sono in grado di vederlo come qualcosa di serio. Eppure ci sono stati momenti in cui, superando il malcontento e il risentimento, ho trovato conforto nelle parole di mio suocero. Lui, uno dei pochi che mi ha davvero visto provare e prendermi cura di lui, a volte mi diceva piano. Agatha, sappi che ti sono molto grato. Non tutti saranno sfortunati con una nuora così premurosa. Queste parole, pronunciate a volte con voce appena audibile, mi hanno sostenuto e mi hanno dato la forza di sopravvivere ai giorni stressanti. Il completamento del funerale di padre Gaston è stato come un calvario. Come se ogni momento rivelasse ferite vecchie e nascoste. Mia suocera, che si trovava sotto i riflettori, si sbriciolò senza sforzo in lacrime finte, alternando un silenzio addiacciante con sguardi accusatori gettati nella mia direzione. Come per scontato, tutti gli altri, i parenti e gli amici di famiglia riuniti qui, tendivano a credere a ogni sua parola, senza rendersi conto del vero stato delle cose. Quando mia suocera, vestita con abiti da lutto, in presenza di parenti lontani, parlò di come si prendeva cura del desunto. Il risentimento ribolliva in me. Mi sono ricordate le notti trascorse al suo capezzale. Quando, con una voce debole, si è scusato con me, come se capisse che suo figlio e sua moglie gli avevano voltato le spalle da tempo. Mia suocera ha sempre creduto che i suoi piccoli divertimenti e attività sussero più importanti delle responsabilità che avevo assunto. La mattina dopo il funerale, avendo appena iniziato a realizzare la perdita cinale, avevo già sentito le critiche di Gaston. Mi eri improverato di aver disonorato sua madre di fronte a tutti, permettendomi di piangere apertamente suo suocero. L'indignazione mi bruciava come un carbone rovente. Lo chiami vergogna? Non è naturale che mi addolori per la persona a cui mi sono preso cura per tutto questo tempo. Trattenendo i brividi nella mia voce, ho chiesto. Ma Gaston si limitò a scrollare le spalle impotenti, come se non riuscisse a trovare le parole per rispondere. Il suo sguardo esprimeva impotenza e forse vergogna. Ma nessun argomento coteva cambiare ciò che credeva ciecamente sua madre. La nostra conversazione si è conclusa con una nota dolorosa, e ho deciso di non trascinarmi più in discussioni inutili. Non restava che sopravvivere questo giorno, concentrandoci sui nostri pensieri e sentimenti. Sino quando questo silenzio forzato che ci divideva non si concluse. E così, quando i riti suonibri si sono conclusi, Gaston e sua madre e io siamo stati invitati dall'avvocato di suo padre. Con il suo primo respiro calmo, è iniziato qualcosa di nuovo che, come immaginavo, avrebbe portato anche un bel po' di ansia nelle nostre vite. Un silenzio teso pendeva nella stanza, mentre consegnavo lentamente a Gaston una busta con i documenti già firmati. Erano difficili da preparare, e ancora più difficili da accettare il fatto che il nostro matrimonio fosse completo. Ma ora che tutte le parole erano state dette, con rabbia e frustrazione che lasciavano il posto a una chiarezza indifferente, ero pronta a lasciare questa casa intrisa del peso invisibile dell'ipocrisia e dell'inganno. Gaston mi guardò, un leggero cipiglio, come se non si aspettasse una reazione così rapida. Sua madre, ancora estasiata dal suo piccolo trionfo, mi lanciò uno sguardo che leggeva una gratificazione malevola. Alla fine si è sbarazzata di quello che pensava fosse un estraneo. Senza nemmeno rendersi conto che era la mia presenza a proteggere suo figlio dalla solitudine e dall'indifferenza che ora erano la sua nuova realtà. Hai davvero pianificato di andartene per tutto questo tempo? C'era un misto di sorpresa e incredulità nella sua voce. Avevo intenzione di andarmene quando ho capito che non ero qui per amore e rispetto, ma per impegno e debito. Cupadre mi ha dato la scelta di lasciare la casa liberamente o restare e continuare a cortare le cure che non si aspettava da te o da tua madre. Alla mia confessione, Gaston guardò di staccato. Come se non riconoscesse in queste parole la donna a cui aveva giurato sedeltà. Sapeva che i debiti verso di me adesso sono la parte del passato. Completato con l'ultima firma sui documenti. Ascoltando la sua voce, non potei stare a meno di sorridere. Ricordando la sua arroganza e le sue parole fredde alla nostra ultima conversazione. Quanto velocemente tutto è cambiato. All'inizio mi considerava un peso e ora, quasi implorando aiuto, chiede sostegno. Agatha, per favore, continuò, implorando leggermente. Non sapevamo che le cose sarebbero diventate così difficili senza i tuoi sforzi in casa. Ho lasciato che la pausa si trascinasse, sentendo una calma soddisfazione riversarsi nel mio petto. In tutti questi anni ho lavorato e curato. Credendo che ci legasse qualcosa di più di un semplice impegno. Ma non appena mi sono messo da parte. Il loro mondo perfetto costruito sulle mie spalle ha iniziato a sgretolarsi. Ellen, non hai detto che le cose sarebbero andate bene adesso? Senza di me. La tua vita sarà più facile. Tutto è andato storto. Dall'altra parte del filo, ho sentito il suo sospiro pesante. Come se gli mancassero le parole o il coraggio di ammettere che si sbagliava. All'improvviso ho sentito il sollievo e l'orgoglio travolgermi. Alla fine mi sono liberato non solo fisicamente, ma anche emotivamente, da questa famiglia, dalle loro aspettative e richieste. Agatha. Ha cercato di cambiare il tono in uno più conciliante. La mamma è dispiaciuta. Forse potremmo trovare un modo per sistemare le cose. Ero felice di sentirlo. E allo stesso tempo sapevo di aver fatto molta strada per ottenere finalmente la libertà e l'indipendenza. E ora, in questo momento, non cotevo più tornare nella loro vita per sopportare di nuovo le difficoltà degli altri. Stavo sorridendo, guardando il mondo che sono riuscito a creare. La vita dopo quel periodo cuto è diventata una vera ispirazione. Tiena di gioia e calore. Ogni giorno è stato un nuovo inizio per me, e ad ogni passo ho capito quanto fosse giusto scegliere la libertà. La cantina dove ho iniziato a frequentare le lezioni mi ha aperto non solo il mondo del buon vino, ma anche infinito opportunità di espressione. Ho imparato ad apprezzare i dettagli, dalla stragranza alla consistenza. E quella sensazione è diventata per me una metasora della vita. Qui, tra bellissime viti e vini pregiati, ho incontrato il mio futuro marito, Lucas. Era un uomo che apprezzava ogni momento. Non solo guadagnava soldi da spendere per piaceri momentanei. Il nostro primo appuntamento è avvenuto in una giornata di sole, quando abbiamo studiato insieme le complessità della vinificazione. Ricordo di aver parlato con passione di come ogni vino ha la sua storia. Di quanto sia importante rispettare il lavoro di coloro che lo producono. Le sue parole mi toccavano e sentivo che quest'uomo, lontano da tutto il trambusto e dai problemi, era esattamente quello che mi mancava. Un anno e mezzo volò come un migo. Abbiamo costruito le nostre vite insieme. Discusso di sogni e piani. Lucas amava la mia indipendenza e non ha mai cercato di sopprimerla. Ha ammirato il modo in cui ho avuto successo nella mia carriera e mi ha supportato ad ogni passo. Ho imparato ad amarlo per la sua sincerità e gentilezza. Per non avermi mai paragonato agli altri. Per non giudicarmi o criticarmi. Mi ha accettato per quello che sono. Quando ci siamo scosati, non è stato solo un passo in una nuova vita. Era una promessa di sostegno e rispetto reciproce. Abbiamo creato una casa piena di risate e comprensione. Mi sentivo al sicuro sapendo di avere qualcuno disposto a condividere tutto con me. Gioia e ansia. Tuttavia, per quanto mi sforzassi di lasciarmi alle spalle il passato, a volte i ricordi del mio primo marito e mie suocera mi venivano in mente. Sapevo che stavano attraversando difficoltà finanziarie e non mi ha toccato. Non potevo dimenticare come la loro vita fosse costruita su bugie e manipolazioni. C'urse era il loro karma. Perché ognuno ha il suo percorso e le sue conseguenze. In momenti come questo, ho alzato un bicchiere di vino e ho ricettuto sul fatto che tutto ciò che è accaduto mi ha portato a questo momento di felicità. Ero grato al destino per ogni svolta. Per ogni difficoltà. È stata una punizione. Come se il suocero che mi ha dato la libertà mi avesse segnalato che avevo fatto la scelta giusta quando sono scappata dalle bugie e dall'ipocrisia. Ora ero libero e felice e niente poteva sermarmi. In questo nuovo mondo pieno di amore e rispetto, sapevo di aver trovato la mia vera vocazione. Essere me stesso. Essere felice e continuare a crescere senza guardare indietro il passato.